questa è una terribile domanda che certe volte si fanno anche più piccoli quando sanno di questa cosa qua e raggiungere la domanda del mistero della morte del dolore degli innocenti perché muoiono così tanti innocenti alcune volte per colpa nostra no le guerre alcune calamità che possono essere dovute a costruzione abusive a quello che stiamo facendo la terra altre volte invece non è dovuto a niente di tutto questo e allora e allora rimane un mistero perché alcuni da giovani muoiono ci sono anche tante storie di santi giovani che muoiono come se il signore le volesse a sé rapidamente non sappiamo quello che per noi certo è che esiste la resurrezione che sicuramente i bambini vanno direttamente in paradiso il perché però lo avremo solo lì qui è difficile dirlo grazie a tutti grazie a tutti